Salve a tutti popolo di Youtube, io sono BadZeus93 della GamersTheGang e questo è il continuo di Kingdom Hearts 2 Final Mix Allora, ci eravamo fermati dove praticamente avevamo trovato il biglietto di Ener che ci diceva di andare alla stazione Giustamente nel loro ritrovo, dove si ritrovano sempre Einer, Penso, Letter, Roxas Eccoli, manca Einer Ciao, Roxas Ciao Ciao E tu sei... Io volevo incontrarti almeno una volta Mi? Sì, tu Un po', così Giusto per dirgli ciao, capito? Ho fermato il tempo, fermiamo il tempo per salutare le persone Però sarebbe molto comodo, almeno Non sei costituito a dire scusa, devo scappare, fermi il tempo Ciao, come tutto a posto, gli racconti la tua vita e poi puoi Puoi sbloccare il tutto, tanto Ma non dovevi andare alla stazione invece di andare a seguire una ragazza che ferma il tempo Sì, ma che ti vuoi? Sì, non ci vuoi E' un po' di ne vai. C'è quello che vuoi averlo meno, mentre non lo posso toccare. Ehm... Ehm... ... ... ... ... ... ... ... ... Non è bene. Si divertono proprio in questa città, ferma il tempo. Roxas, usi la keyblade! Bene, quindi in questo momento ci troviamo davanti alla seconda scelta, dove noi dovremmo scegliere tra lo scettro, la spada e lo scudo. E in base a quello che sceglieremo noi acquisiremo le abilità durante la nostra storia. Ehm, vabbè io scelgo la spada come sempre. Eh certo. Quindi adesso siamo dei guerrieri. Finalmente posso togliergli la vita. Finalmente. Vabbè non è difficile sconfiggerli anche perché basta dare due colpi, fare a gira. Ok, se gli si dà il colpo finale verranno mandati via e quindi comunque non si può fare a gira, poi arriveranno. Bisognava schivare, siccome non avevo quello per schivare. Vabbè, tutorial. Tipico degli RPG, far salire di velo il personaggio se non si riesce a andare avanti. Uno scrigno. Giustamente voi non lo sapete ma quello mi dice di premere X ma dovevo premere cerchio. Sembra più che ovvia la cosa. Ok. Perché prima non era game over. Come potete notare il gioco non è stato patchato completamente ma non sono cose altamente rilevanti. Per chi ha giocato al 2 già sa come funziona. Chi non lo sa lo dico io adesso. Basta dice che si può premere triangolo per attivare le cose oppure cerchio. Attiva, non attiva. Ma inutile se tanto si può premere triangolo. Ogni doore. Ehm... ... Grazie a tutti. Che c***o. Un'altra opzione... ok. C'è anche personalizza dove possiamo scegliere gli oggetti da mettere nei tasti rapidi, dove noi praticamente giocando normalmente se premiamo l'e1 ci appare questo shortcut. Dove ci sono le abilità... no, vabbè, là si possono mettere le magie o gli oggetti che si possono utilizzare. Manni. Eh sì, mi sembra più che è giusto, no? Andiamoci a mettere dietro la porta dove non può arrivare. A trappirlo. Voglio i miei manni. Oh, finalmente... È qui che incontreremo il nostro primo boss. Abbastanza enorme, come sempre. Il primo boss deve essere il più grande, mi sembra più che è giusto. Vabbè, comincerà subito con questa cosa senza toccarci. Dove dovremmo aspettare che esca il comando di reazione per evitare le sue mosse. Basterà premere il triangolo sempre, ma anche piano, tanto... Tanto è sempre facile da evitare. Triangolo. E magari si muove a uscire. Ah sì, giusto. Eh, mi sbaglio. Mi sono sbagliato. Bisognava andare dritti per dritti dove era caduto il nessuno. Proprio dritti quello si vedeva il nessuno scivolare. Tanto più avanti lo rifarò almeno un'altra volta. E me lo potrò far vedere. Possiamo colpirlo. Giustamente non abbiamo scan, quindi non sappiamo quanta vita. Vabbè, giustamente avremo i suggerimenti che ci aiuteranno a gira. A gira. Perché ha scelto il guerriero a balza aereo. Non mi vorrei sbagliare, ma mi sa che lo da solo al guerriero. Alla fine la battaglia sarà tutta così. Bisognerà solo essere un po' calmi. Non rispettare di aver ritorto tutta la vita, che giustamente non vediamo. Sì, questi colpi si possono evitare, ma io non... Ho di tempo a questa parte che non riesco più a giocare bene. Non evito più niente. Se gli riuscite a dare un colpo alla volta, comunque... Mi sembra un po' di vita che gli si dà. Scusa a colpillo. Ecco, di nuovo. Dovremmo aspettare comunque il comando di reazione, perché... Non possiamo saltare fino ad essere l'avversario. Sempre... Triangolo, dobbiamo aspettare comunque per arrivare nessuno. E' bello come lo afferra, ma è tipo rubber. Vedete, bisognerà andare dritto per dritto nel lato dove è caduto. Non so se si avrà subito, come lo vedi. Prima mi ero sbagliato. Non mi succede. Nooo. Ah, è morto. Max HP per guardia. I per guardia... È per parare. Quando premeremo quadrato, fare no. Cosa che in Kingdom Hearts 2... No, sì. Cosa che in Kingdom Hearts 1 si sbloccava molto da... Doppia avanti, quindi si aveva già la schivata con la scivolata. Ma gli è caduto addosso... E non l'ha schiacciato. Sbord. Il mio nome è Nominei. Roxas, ricorda il vostro nome? Non dico più, Nominei. Ma se nessuno lo ha detto, Roxas... È meglio che non sappia la verità. Hei, sei il tuo piccola! Cascato in pieno. Cypher, stai una posa, sai? C'è questo? È totalmente perfetto, sai? C'è un altro, sai? C'è quello? C'è un sacco. Esatto. Esatto. Cacca. C'è un sacco. 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 E se non si trattano le regole qui, potrei prendere le misure disciplinari. Oh sì, Cypher sempre sta guardando la città, sai? Scusate! Hey, no chicken and out of the tournament tomorrow! Siamo aspettando, sai? C'è un sacco. No! 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 Esatto. Ok, sei arrivato. Voi due sottotitoli. Vai prenderlo. È una promessa. Sono fuori. Manca solo la metà del tempo. È totalmente a mia controllo. Calm down. Non importa. As long as Namine accomplishes her goal, non bisogna worry about what befall Ruxus. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Solo il Keyblade Master può aprire la porta segretta e cambiare il mondo. Non c'è nulla. Non c'è nulla. È un amico. È un amico. Quindi, il tuo cuore won questa battle. Non ti ricordo. È un amico. È un amico. È un amico. Lassi me in una nuova scurita. Sora! Lassi. Non c'è nulla che sei prenderlo Kairi. Kairi. Grazie a tutti Buongiorno Ok, promesso Ogni volta che vedo questi ricordi rimanco sempre impalato e zitto Sono troppo belli È stato troppo bello giocare a Kingdom Hearts 1 Quando ci ho giocato Quindi adesso siamo al giorno dove inizia il torneo Struggle E quindi dovremmo vincere con i nostri amici Per ottenere il primo e il secondo posto Grazie a tutti Buongiorno 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 Ciao!